questa sguardi virtuali sul lavoro cercare lavoro sul web è l'ultima videoconferenza per quando ci riguarda e la conferenza questa videoconferenza sarà condotta da due relatori il professor Elvis Mazzoni dell'Università di Bologna e il professor Sergio San Giorgi ambe due psicologi del lavoro e chiaramente i contenuti che ci confronteremo è come utilizzare al meglio la rete e quindi cercare lavoro sul web come dice il titolo io ringrazio come informa giovani sia il professor Elvis Mazzoni che il professor Sergio San Giorgi per questo intervento e devo dire che l'incontro precedente è stato molto interessante per cui mi aspetto grandi cose da quello di oggi e ringrazio Formazione in Rete di Piazza Grande per la coprogettatoria che sta facendo con noi le proposte che ha fatto per questo ciclo di webinar bene siamo grati noi per questa presentazione e anche per aver creato questa aspettativa nei confronti di questa chiacchiera ci siamo già stati presentati quindi direi di non dilungarci troppo su questa prima parte questo è il secondo appuntamento il primo appuntamento magistralmente gestito dal professor Mazzoni aveva come scopo principale quello di mettere in luce il tema della reputazione soprattutto ai giorni nostri no la reputazione digitale come certi comportamenti certe strategie possono essere più o meno funzionali e l'argomento di oggi invece ha a che fare un po' più con il muoversi sul web con l'obiettivo di cercare lavoro e quindi di proporsi ma anche di valutare le opportunità che ci possono essere accessibili anche attraverso la rete perché bisogna anche un po' sfatare il mito del fatto che se non sei sulla rete non esisti ci sono anche delle opportunità di lavoro che tuttora ci sono offline e in qualche modo possono essere ricercate oggi noi ci concentriamo di più su quello che può offrire il web e ci concentreremo in particolare su tre argomenti ecco dove come cercare lavoro la parte del curriculum serve ancora non serve più in che casi questo può essere in qualche modo utile o funzionale ai nostri scopi e poi l'ultima parte che riguarda il momento fatidico in cui si è entrato in contatto con un'opportunità lavorativa e si viene diciamo ad avere l'opportunità di presentarsi e di far conoscere, farsi conoscere e conoscere diciamo da parte dell'interlocutore non prima però non prima però di fare un accenno brevissimo alla puntata precedente voi direte ma non abbiamo già parlato abbastanza di questi argomenti è che tra la puntata precedente che parlava di digital reputation e quella di oggi in cui si parla di cercare lavoro mi è capitato tra le mani il post di un'imprenditrice che nel suo network diciamo di contatti metteva a conoscenza del suo gruppo di contatti il fatto che avendo postato un articolo sul web che parlava di imprenditorialità al femminile ha ricevuto una sfilza di insulti, improperi o valutazioni e io lì non ho resistito e quindi ve la propongo perché si aggancia molto bene a una riflessione che faceva Elvis Mazzoni nella puntata precedente che magari lascerei brevemente commentare a Elvis questo elemento che secondo me è molto affine all'argomento che aveva trattato in precedenza essendo però diciamo il caso emerso da un post che ha fatto questa imprenditrice per accennare al fatto che comunque ci sono in rete anche dei punti di vista decisamente opinabili ecco mettiamola così Sì, questo è appunto uno dei punti che abbiamo trattato la volta precedente soprattutto nel momento in cui abbiamo evidenziato come nel momento in cui si posta qualcosa online è molto importante riuscire un attimo a carpire, recepire o quantomeno prevedere, anche se veramente non è facile il comportamento altrui è quello che questo può scatenare Ora, sul post dell'imprenditrice nulla da dire è assolutamente, non solamente sua facoltà, ma il suo diritto evidenziare questi aspetti, alcuni aspetti anzi, a maggior ragione, voler evidenziare quanto e come possa essere importante con l'imprenditoria diciamo così, diversificata in ambito nazionale eccetera era ovvio che purtroppo a causa di ovviamente idee opinabili e opinioni differenti che ci sono nelle persone purtroppo questa persona è stata, come vedete appunto in questi slide, attaccata malamente però ecco da questo punto di vista bisogna dire un aspetto, una cosa importante, fare un distingo perché in questo caso sicuramente l'imprenditrice non fa una, come dire, viene attaccata ma la figura, fra virgolette, pessima la fa in questo caso chi attacca l'imprenditrice ovviamente in alcuni casi invece occorre fare attenzione perché ovviamente si è attaccati soprattutto noi abbiamo visto l'altra volta dei casi di foto, di pubblicità eccetera molto, come posso dire, che mettevano in forte dubbio anche la credibilità della persona che le aveva spostate e conseguentemente in quel caso l'attacco ovviamente poteva trovare terreno fertile per minare la reputazione delle persone in questo caso direi che la persona non viene dal punto di vista della reputazione digitale colpita malamente, anzi veramente devo dire fanno una figura bieca le persone che come dire, hanno messo questi posti. Però qui ovviamente, come Sergio pensa, a sua volta io potrei quindi da questo punto di vista in questo momento andare a valutare la reputazione di chi ha messo determinati, diciamo così, improperi o quantomeno ha scritto quasi così bieche nei confronti di questa imprenditrice e quindi comunque la reputazione di questi qua ovviamente ne viene colpita perché ovviamente io grazie appunto alla ricerca su web posso andare a trovare i post di queste persone e dire ma guarda questa persona come la pensa dal punto di vista imprenditoriale italiano, ma guarda cosa pensa delle donne, ma guarda cosa pensa di questo, di quell'altro e conseguentemente nel momento in cui poi dopo, perché io so dove voleva arrivare Sergio, questa persona dovesse andare a cercare lavoro o quantomeno costruisce una reputazione che possa permettergli poi dopo di trovare un lavoro, di andare a fare un colloquio di lavoro, mettersi su internet e come dire proporsi, ecco grazie a questi post posso farmi un'idea della persona che è e se io abbia poi intenzione di lavorare, collaborare o avere, diciamo così, i servizi di questa persona. È proprio così, visto che Luis Mazzoni mi conosce molto bene, voi direte dove sta il collegamento con questo e il tema di oggi, dove cercare lavoro sul web? Ce l'ha il collegamento perché ci sono tre modalità principali, ce n'è una se vogliamo diretta, quindi attraverso i siti web delle aziende come se noi andassimo fisicamente a portare il curriculum o a suonare il campanello presso un'attività, presso un'impresa eccetera. Poi c'è un'altra modalità che è quella più e-commerce se vogliamo, di portali, di agenzie o di altro tipo che di fatto hanno un catalogo, un motore di ricerca che mette insieme la domanda e l'offerta, quindi con una serie di filtri seleziona opportunità e permette anche di realizzare le candidature. C'è un terzo livello che invece è il livello social, che anch'esso offre la possibilità di candidarsi, di pubblicare delle offerte di lavoro, ma il canale social ha in più questa dimensione, la possibilità di essere parte di una comunità, di gruppi, di un network e quindi di non arrivare diciamo all'appuntamento, di non presentarsi solo con il curriculum e con i dati, ma con una rete di contatti con un, tra virgolette, capitale sociale che è fatto dai contatti che abbiamo, dalle attività che abbiamo svolto in rete, dalla reputazione che ci accompagna e questa reputazione, come diceva bene il professor Massone una volta scorsa, in parte dipende dalle nostre azioni digitali, ma in parte dipende anche da azioni che noi non controlliamo direttamente, che sono quelle dei nostri contatti. E quindi questo è un po' il trade union tra questa slide che vedete e diciamo una delle modalità che c'è di cercare lavoro sul web. Quella social ovviamente è quella che è emersa negli ultimi anni, che coinvolge tutta una serie di attori e di modalità e che ha alcuni vantaggi, ma anche alcuni punti ai quali prestare attenzione, perché diciamo la nostra reputazione a volte ci precede, no? E quindi magari ecco l'attenzione che noi possiamo dedicare al presentare noi stessi con un profilo, con un curriculum, eccetera, è solo una parte del risultato. L'altra parte del risultato arriva dalla nostra reputazione digitale che si coltiva come abbiamo visto nella puntata precedente. Bene, però mi sembrava utile fare questo tipo di aggancio ecco al tema. Dove cercarci l'imbarasto della scelta? Diciamo io ho raccolto in rete alcuni di questi esempi e come dicevo appunto ce ne sono alcuni che sono più sul versante social, quindi permettono anche di connettere dei gruppi, delle diciamo dei profili, anche delle pagine pubbliche che consentono di entrare a fare parte di community e sotto community. E poi invece ci sono come vedete degli esempi di portali storici o meno storici, Vadecco, Manpower, Indeed, Randstad, ne ho presi solo alcuni, ce ne sono moltissimi, che consentono di fatto di facilitare il match tra domande e offerte, quindi di pubblicare le offerte a chi offre lavoro e di candidarsi per queste offerte con un minimo, diciamo, di profilazione. Non c'è però interazione tra le aziende, non c'è interazione tra i candidati. Ecco, questo è quello che va detto. In ultimo abbiamo, nella parte in basso a destra, quello che vedete indicato come website e sono i siti web delle attività che poi si distinguono, diciamo, a seconda del tipo di attività, perché attività, aziende, realtà più strutturate hanno siti web più strutturati, dove si trovano spesso anche le sezioni, lavora con noi, che presentano una serie di caratteristiche aziendali e anche la possibilità di venire a conoscenza delle posizioni oggetto di selezione, diciamo, delle esigenze, dei profili ricercati e anche di candidarsi sia per questi profili, sia autonomamente, no? La famosa autocandidatura. Quindi non ne ho messo uno in particolare, ma dopo ne vedremo alcuni. Questo più o meno è un'idea dei luoghi. Mi preme in qualche modo sottolineare una cosa, ecco, le differenze fra questi tre tipi di canali. Quindi il canale diretto, sito web, ma anche, diciamo, in un certo modo il profilo social, no? Il profilo social, perché le attività più piccole magari hanno, quasi tutte, hanno un profilo social e possono pubblicare l'annuncio anche lì. Però questo lo vediamo nella parte social. E quindi questo è un accesso un po' più, se vogliamo, simile a quello che c'era in passato, no? Dove si trovavano gli annunci sul giornale, si trovava l'esigenza, quindi il profilo richiesto, l'annuncio da parte dell'azienda e poi ci si contattava o per telefono o per posta, o anche per posta elettronica, inviando il curriculum. Ecco, l'altra differenza con i portali, quelli che fanno, diciamo, match domanda e offerta, è che di fatto gestiscono dei flussi con dei database, quindi incrociano dei profili di candidati con dei profili di richieste. Hanno un grosso database di solito alla base e proprio questo database è anche il principale valore che esprimono queste agenzie nell'era come quella di oggi in cui i dati sono effettivamente il valore e il capitale che queste realtà possono esprimere, perché avere a disposizione molte migliaia di profili di candidati significa anche riuscire a farci dei ragionamenti sopra. Chiaramente dopo aver chiesto l'autorizzazione a trattare i dati personali, però a profilare i candidati per sottogruppi, a fare dei ragionamenti che possono essere, in qualche modo possono rappresentare un valore anche per chi è disposto ad acquistare i servizi di queste realtà. Per leggi in Italia non ci si può far pagare per le candidature, quindi non sono mai i candidati che pagano per questo tipo di servizio, ma sono le aziende che possono avere, diciamo, l'interesse nell'avere delle informazioni e dei dati analizzati su questo versante per farsi un'idea anche della, diciamo, della disponibilità o meno di profili come quelli che vengono di fatto ricercati. Ecco, non so se Elvis ha qualcosa da aggiungere su questo punto? Sì, volevo semplicemente aggiungere una cosa importante che anche comunque per quanto riguarda soprattutto il versante Social Network Insights, ne abbiamo parlato un po' anche l'altra volta, comunque il LinkedIn piuttosto che Facebook, piuttosto che Instagram danno accesso e propongono poi comunque il proporsi a persone completamente differenti, nel senso che LinkedIn è, per altra domanda, diciamo così, una rete molto votata all'ambito professionale o comunque, diciamo così, quindi professionale o comunque l'attività che si svolge, lavorativa, eccetera, Facebook è molto più generalista, Instagram è molto un sito di impatto dal punto di vista dell'immagine, quindi ovviamente ognuno di questi tre motori di ricerca, scusate, di questi tre Social Network Insights darà accesso a una cerchia di persone differenti dal punto di vista di come si propongono, di ciò che fanno, ma anche attenzione dell'età che hanno, perché ovviamente Facebook, ad esempio, generalmente è popolata da persone dai 30 ai 50 anni, Instagram è popolata da persone dai 20, dai 14, 15 ai 30 anni, LinkedIn invece è un po' più ampia nel suo range, ma comunque è un'attività professionale, quindi dai 25 anni in su. Ecco, quindi capite un po' anche la differenza poi dopo di utilizzare una risorsa o piuttosto che un'altra anche dal punto di vista dei siti di Social Networking. E in effetti, proprio da qui vogliamo cominciare, nel senso che prendiamo qualche esempio di annuncio che si può trovare su questi canali. Devo dire, insomma, subito che sul canale Instagram raramente si trovano delle offerte di lavoro. Al massimo si possono trovare messaggi di questo tipo. Vuoi fare il promotore dei nostri prodotti? Quindi tagga il nostro prodotto nelle tue storie e noi ti riconosciamo, diciamo, una certa, un certo valore, una certa utilità. Quindi perché Instagram è per gli influencer? Sì, è anche vero che come insomma nei nostri tempi tutti si sognava di diventare astronauti o calciatori e adesso si sogna di diventare influencer, ma sono un numero molto limitato, ecco questo. persone capaci, no, di suscitare un seguito molto ampio. Quindi prima di, ecco, arrivare a poter avere un bacino di audience, ecco, tanto vasto, ecco, raramente si può contare su un canale di questo tipo. Quindi io ho fatto una piccola ricerca, ecco, su Instagram il canale non offre moltissimo, almeno non quanto gli altri canali. E quello che più spesso si trova è appunto la richiesta di fare da promoter, quindi di fare da... con appunto annunci anche di tipo molto generale, perché il tipo di rapporto qui non viene esplicitato, il tipo di impegno richiesto, le caratteristiche che richieste, è tutto molto, diciamo, ambiguo, ecco. E il consiglio è quello di uscire da questa ambiguità per chiedere un contatto magari su un altro canale, su un'altra piattaforma, per valutare in maniera un po' più approfondita questo tipo di opportunità, ecco. Quindi di fatto il canale Instagram io lo tratterei come una delle possibilità che però non mi pare, non mi pare una delle principali. Diverso invece è come accennavo prima il canale Facebook, perché molte attività hanno una pagina Facebook che allo stesso modo diciamo di Google consente di avere una sorta di vetrina nei confronti della propria clientela, della propria utenza. Più spesso questo è vero per le aziende che hanno, si rivolgono a un pubblico consumer, diciamo, quindi un pubblico di privati che nei suoi comportamenti di scelta, di acquisto, di accesso ai servizi può essere in qualche modo interessato ad avere informazioni e ad essere a conoscenza di quanto questa realtà che può essere strutturata, meno strutturata, imprenditoriale, artigiana, un'associazione che vuole far conoscere le proprie attività. In questa pagina vetrina si offre una serie di informazioni, tra le quali ci sono anche, diciamo c'è, c'è anche una sezione apposita di Facebook, però tendenzialmente è possibile realizzare dei post dove in qualche modo si pubblicizza un'offerta di lavoro. Come diceva Elvis, queste offerte di lavoro sono generalmente appunto rivolte a una fascia di questo tipo e hanno un carattere generalmente molto informale. Ecco, e quindi hanno anche la caratteristica di essere visibile a tutti o almeno a quelli che hanno messo mi piace alla pagina e che quindi rientrano, diciamo, nel sottogruppo della pagina. Quindi anche lì bisogna fare un po' attenzione al gestire l'eventuale candidatura perché è chiaro che in molti casi c'è scritto messaggi in privato e quindi però va fatta ecco questa attenzione al non iniziare ad interagire con una pagina pubblica di Facebook, pena, diciamo, vedere anche quel tipo di dinamiche che abbiamo visto col post dell'imprenditrice che ho segnalato poco fa. A noi interessa eventualmente allacciare un rapporto con l'organizzazione, con l'azienda, con l'attività per valutare se effettivamente c'è l'opportunità di iniziare a collaborare. Però questo riguarda noi, me e l'impresa e lo riguarda tutto il resto del mondo. Quindi anche questo va tenuto presente. Quindi bene per venire a conoscenza di un'opportunità, attenzione a come poi noi utilizziamo queste opportunità e soprattutto a come si presentano anche queste opportunità. Perché se vedete dagli esempi che ho tratto, diciamo che al di là dell'ortografia, che può essere sintomatica da certi punti di vista, ci sono alcuni aspetti che vedremo poi nelle slide successive, possono dare già qualche informazione sulla accuratezza, sulla precisione, sulla, diciamo, correttezza anche dal punto di vista di chi mette gli annunci. Ecco. Non so se c'è qualche contributo, qualche commento anche da parte di Elis su questo, c'è un termine che mi ha un po' suscitato interesse, curiosità, no? Quello del primo post, primario ufficio assicurazione, richiede tassativamente foto eloquente. Ecco, questo tipo di annunci va evitato come la peste. Però lascio lo spazio a Elis per commentare questa. Hai niente da dire, hai detto benissimo tutto, Sergio, sei stato molto eloquente anche l'esempio che hai fatto, eccetera. No, l'unica cosa da dire, come dicevo prima, è che Instagram è il classico canale, come vi ho detto, non a caso ho parlato di un canale dove generalmente la gente tende a mostrare un po' se stesso, eccetera, e quindi è molto votato all'immagine, no? E' conseguentemente molto votata per la parte più di influencer. Facebook è più generalista, indubbiamente ha una clientela, come dire, più ampia e attualmente non raggiunge ovviamente una fascia d'età, quella bassa non la raggiunge, indubbiamente ha dei grossissimi pregi perché riesce a raggiungere nella fascia dai 25-30 fino ai 50 una gran parte, una gran percentuale di topolazione, indubbiamente. Evitando l'esempio che ha fatto assolutamente Sergio, perché ovviamente lì poi dopo si cade anche, ovviamente bisogna sempre considerare che qualsiasi cosa noi scriviamo ovviamente fonte di schermo, fonte di commenti, fonte di qualsiasi cosa, quindi bisogna con tutti, quindi bisogna stare molto attenti a dire che si prenda un momento in cui si scrive qualcosa che possa ovviamente essere, come dire, percepito o quantomeno inteso o frainteso differentemente da quello che erano le intenzioni originali. Sì, ecco, quindi diciamo che bisogna tenere presente che i canali social offrono appunto delle opportunità ma anche delle vulnerabilità. Posso aggiungere una cosa al volo, Sergio? Sì. Perché questo aspetto che hai detto adesso è molto importante, cioè i canali social, tutte le tecnologie ma soprattutto i canali social, rappresentano delle forti, in potenza delle fortissime opportunità, ma ovviamente hanno anche dei grossi limiti, cioè voglio dire offrono tanto ma allo stesso tempo nel momento in cui sbaglio prendono tanto, rischiano di essere un boomerang fondamentale, importantissimo. Quindi è su questo aspetto che bisogna molto fare attenzione e giocare. Sì, diciamo che appunto la differenza tra il canale social e gli altri canali è appunto la parte ovviamente di networking, di creazione di community, di interazione, anche di diffusione di notizie, commenti, di dare la possibilità alle persone di fare networking e quindi di venire in contatto con persone con le quali direttamente magari non abbiamo accesso diretto. Ma partecipando a gruppi in comune, seguendo le stesse pagine, c'è la possibilità appunto di allacciare delle relazioni, dei rapporti, anche se solo diciamo di un mero contatto. Quindi la possibilità di entrare in contatto con profili anche molto differenti dal nostro, che rappresenta una ricchezza, un'opportunità. Tuttavia su LinkedIn per esempio, anche se si tratta di un social network professionale, viaggiano allo stesso modo di Facebook anche Monte Bufale o anche molte diciamo catene di Sant'Antonio, tra virgolette, adesso qualche esempio lo trovate qui nelle slide, che non hanno diciamo hanno dichiaratamente lo scopo di facilitare la ricerca di lavoro, ma in pratica hanno lo scopo di gestire dei contatti, diciamo di avere dei contatti e quindi di aumentare la possibilità di fare circolare diciamo delle delle informazioni. E anche qui ci sono i vari hashtag, c'è la possibilità di taggare delle persone, eccetera. Però ecco, diciamo che la cosa più importante rispetto ai canali social è quella di essere consapevoli che i nostri comportamenti, le nostre azioni aggiungono un valore in positivo o in negativo al nostro profilo. Quindi la nostra reputazione e la capacità di entrare in contatto con chi offre lavoro o chi potrebbe confermare, arricchire la nostra reputazione dipende anche da questi comportamenti di scelta. Sostanzialmente sono comportamenti di scelta. Scelta di cosa pubblicare e cosa no, a quali gruppi partecipare, a chi chiedere il contatto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diversamente diciamo da Facebook che nasce per altri scopi, LinkedIn invece nasce proprio per facilitare delle relazioni di networking tra professionisti e comunque nel mondo del lavoro. Come vedete dalle slide qui c'è anche la possibilità di fare domanda, di fare application. Poi diciamo le giovani generazioni dicono ormai più che fare domanda per un lavoro dicono applicare, mi applico per un lavoro. Una volta uno che si applicava era uno che insomma ci dava olio di olio di gomito, ecco. Invece adesso si intende più diciamo l'inglesismo apply to, vuol dire far domanda per. Ed effettivamente LinkedIn offre un'intera sezione sulla ricerca di lavoro che presenta delle offerte che possono avere tutta una serie di caratteristiche, sia per stage, sia per impiegati diciamo di tipo amministrativo e quant'altro. Ecco questo è un po'. Il vantaggio è quello di non dover eventualmente necessariamente ecco aver preparato un curriculum ma poter rispondere direttamente lì e quindi di fatto velocizza anche il processo di ricerca e selezione e consente appunto di presentarsi a un numero di realtà maggiore rispetto a quanto potremmo fare attraverso altri canali. Ecco l'importante è prestare attenzione ad alcuni aspetti che vedremo nel dettaglio tra poco ma che possono fare la differenza. Ecco faccio vedere qualche altro esempio. Ecco qui abbiamo diciamo una piattaforma che si chiama Indeed che invece non è un social network ecco è una sorta di portale che consente di pubblicare e di candidarsi per posizioni lavorative ecco varie e possibili. Come vedete anche dalle etichette il pulsante quello grande recita candidati facilmente. E questo è un po' il valore aggiunto per i candidati. La possibilità di fare domanda velocemente per diversi annunci ecco. E anche qui c'è la possibilità di gestire se vogliamo anche il nostro la nostra attività di candidatura perché se vedete c'è il cuoricino e quindi si possono salvare gli annunci per noi interessanti. Ecco anche qui non tutti gli annunci hanno le stesse caratteristiche dal punto di vista qualitativo. Ci sono alcuni elementi che vedremo tra poco che possono aiutarci a distinguere tra annunci diciamo di buona qualità e che quindi fanno presumere che dietro ci sia una certa serietà e dall'altra parte fanno sempre presumere perché non si può mai dare per scontato però diciamo che dal punto di vista formale hanno una serie di requisiti ecco. Allo stesso modo oltre ad Indeed c'è un'altra piattaforma che nasce come portale di scambio di annunci per cose, oggetti, automobili, insomma qualsiasi altro bene e che da un po' offre anche la possibilità di cercare un lavoro. Però anche qui ecco quello che mi preme sottolineare è questo la filosofia alla base è una filosofia e-commerce quindi che mette in contatto domanda e offerta quindi presenta una serie di opportunità dà al candidato la possibilità di profilarsi e di vedere annunci più o meno in linea con il nostro profilo quindi filtrare tra gli annunci possibili quelli che... quindi facilita però diciamo non ha una personalizzazione e soprattutto non dà la possibilità di gestire anche quella componente social che invece LinkedIn o Facebook possono in qualche modo offrire ecco questo è il punto allo stesso modo ci sono diciamo delle realtà che storicamente hanno una presenza nel nostro territorio ed ecco una di queste per esempio una società che offre diciamo offerte di lavoro e diciamo anche la possibilità di fornire lavoro temporaneamente alle imprese eccetera anche qui come vedete appunto una ricerca per parola chiave per località dà la possibilità di candidarsi anche attraverso un format un curriculum che si può compilare online quindi qual è il vantaggio? il vantaggio è che invece di preparare N curriculum tutti diversi si prepara un curriculum compilando un form e questo può essere utilizzato salvo poi piccole personalizzazioni può essere utilizzato per diciamo industrializzare la nostra ricerca di lavoro standardizzare in alcuni casi questo è un vantaggio perché consente diciamo di risparmiare tempo consente di estendere il più possibile la nostra candidatura sul mercato ma allo stesso tempo ha degli svantaggi e lo svantaggio è che sostanzialmente si presenta spesso diciamo in maniera salvo poi quelli un po' più accorti che fanno le sfumature si presenta la stessa faccia a tutti quanti e questo Elvis Salene che in alcuni casi non è un vantaggio non so se vuoi aggiungere qualcosa no effettivamente non è un vantaggio perché poi dopo si rischia a di essere ripetitivi e monotoni mentre ovviamente negli ambienti digitali in particolare online ma l'abbiamo scoperto un po' tutti è molto più facile essere monotoni e ripetitivi mentre un po' quello che si cerca è anche invece qualcosa di più a volte frizzante eccetera per cui bisognerebbe un attimo modificare anche sulla base di quello che abbiamo detto in precedenza cioè che ognuno di questi siti è dedicato o comunque si rivolge a persone un po' differenti faccio un punto importante rispetto a quello che è stato detto finora che è veramente fondamentale da capire ed è il seguente cioè se noi parliamo di siti di social networking l'aspetto importante è perché dovrei fare rete o social network all'interno di una ricerca di lavoro? Allora il punto è questo qui incontriamo in un sito come quello di Adeco come Subito eccetera troviamo domande offerte ovviamente la mia domanda o meglio le associazioni che fa il database che fa quindi a volte si tratta anche di sistemi di intelligenza artificiale molto evoluti non stiamo discutendo di questo ovviamente si basano molto sulla descrizione che ho fatto io punto e basta e conseguentemente l'associazione è piuttosto secca difficilmente cioè le realtà che mi verranno proposte sono quelle che sono più o meno simili e tutte in linea rispetto al profilo che io ho presentato fare rete e il discorso di social networking aiuta perché come dimostrò benissimo un grande studioso di reti sociali che era grano mettere addirittura negli anni 70 le reti sociali informali quelle delle persone che conosciamo di meno sono quelle più importanti nel momento in cui si hanno difficoltà e si sta cercando lavoro perché? perché proprio parlando con gli altri dicendo che sto cercando questo che vorrei far questo, che vorrei far quello vengono fuori informazioni da persone che io non conosco ma di cui ho appena il contatto e che altre persone che invece mi sono più vicine nella vita quotidiana non mi possono dare perché condividono già con me tante informazioni ecco l'importanza a volte dei siti di social networking proprio il fatto di poter parlare con gli altri sebbene siano meno mirati dal punto di vista delle ricerche del lavoro rispetto a questi però possono dare appunto parlando con gli altri quella, come dire, il vantaggio di ampliare l'orizzonte delle ricerche perché non faccio delle ricerche da solo ma altri si informano anche eventualmente per me detto questo per esempio già il sito se volete che fa un po' veramente da tradunion fra queste due categorie è LinkedIn perché LinkedIn ha all'interno è un sito di fatto di social networking non esageratamente di social networking ovviamente come Facebook però ha già all'interno ad esempio una serie di informazioni che vanno inserite a molti curriculum quindi già LinkedIn è piuttosto strutturata da questo punto di vista certo e in più grazie Elvis di aver citato Mark Granovetter dal passato che però effettivamente evidenziava un elemento che è ancora attuale il famoso legame debole che massimizza la probabilità di venire in contatto con informazioni nuove non ridondane diciamo l'interagire l'interloquire con contatti profili simili al nostro probabilmente porterà delle informazioni che noi conosciamo già o che comunque non aggiungono molto a quello che siamo già riusciti a percepire ecco la possibilità appunto invece di esplorare attraverso legami deboli quindi il contatto del contatto del contatto dà la possibilità di vedere anche delle opportunità che non ci sono così vicine e così familiari ecco uno dei consigli che LinkedIn stesso dà è quello di completare il più possibile il proprio profilo anche lì se vogliamo c'è un aspetto anche più prosaico quante più informazioni noi diamo quante più informazioni poi LinkedIn può utilizzare per conoscerci questo è la tara che va fatta però è chiaro che ci stimola a in qualche modo offrire un profilo un'immagine che abbia più sfaccettatore più sfaccettatore più completa e che consenta agli altri di sapere che cosa facciamo e anche di farsi un'idea su quale può essere la nostra reputazione però prima di arrivare facciamo qualche considerazione conclusiva volevo farvi vedere altri esempi perché ce ne sono veramente molti oltre ad ADECO anche Runstand è un'altra agenzia che storicamente offre questo incrocio domande e offerte noi non facciamo la pubblicità per nessuno però era giusto per confrontare diciamo più realtà e se volete diciamo ci sono ci sono anche delle similitudini molto forti ADECO per esempio dice trova il lavoro che fa per te Runstand dice il tuo prossimo lavoro di fatto io non vedo tantissime differenze al di là dei colori della grafica però quello che sta alla base di questi sistemi è il match domanda e offerta anche con delle forme di intelligenza artificiale quindi che con degli algoritmi cosa fanno sulla base del nostro profilo delle ricerche che abbiamo fatto possono presentarci o meno delle opportunità in linea con le ricerche che abbiamo fatto con il nostro profilo eccetera eccetera e questo se vogliamo è anche il punto di contatto più profondo con delle realtà di e-commerce come Amazon chi ha cercato questo ha cercato anche si chiamano sistemi non lineari sono questi sistemi che consentono appunto di fare delle associazioni e di mettere in relazione la nostra ricerca il nostro profilo con qualcos'altro ecco questo tende come proprio diceva Elvis prima a normalizzare se vogliamo ma farci vedere cose sempre simili tra di loro e quindi la grossa opportunità viene dai contatti deboli lascio la parola a Elvis che aveva un argomento proprio sulla questione dell'intelligenza artificiale volevo dire che questi algoritmi al pari di quello che fanno Facebook fanno e-commerce come Amazon eccetera in particolare questi algoritmi dell'intelligenza artificiale verificano anche l'associazione che noi abbiamo con aziende e soprattutto con i nostri contatti e quindi anche il fatto di avere interessi comuni e avere per esempio fare attività comuni collaborare con determinate persone piuttosto che altre implica una selezione da parte del sistema dell'intelligenza artificiale delle proposte lavorative che mi arriveranno questo lo dico perché diviene sempre più fondamentale negli ambienti virtuali basati su questi sistemi selezionare adeguatamente la cerchia dei contatti l'avrete già capito quando abbiamo parlato dell'importanza dei contatti deboli dei legami deboli dei legami forti eccetera ma diviene un aspetto veramente fondamentale bene io diciamo in conclusione del dove cercare perché ci sono anche delle guide offerte anche da questi portali passerei invece infine al contatto diretto con i siti aziendali anche per citare qualche realtà del territorio emiliano romagnolo per esempio Maserati fa parte di FCA ecco qui c'è una sezione cerca lavoro c'è una sezione opportunità di lavoro in FCA e qui cambia un po' la prospettiva come si diceva un po' all'inizio perché in realtà questa è la vetrina attraverso la quale le aziende diciamo un po' più strutturate si propongono all'esterno quindi trasmettono uno o più messaggi confidence no? c'è un aspetto anche valoriale che in qualche modo serve a dare un'idea a chi vuole entrare a far parte di questo mondo di quali sono i valori per noi più importanti che cosa diamo importanza quali sono gli elementi più importanti per noi cosa cerchiamo nelle persone che vogliono far parte della nostra famiglia tra virgolette questa non è un'informazione da poco perché in realtà poi è chiaro che poi adesso per beninteso come direbbe il professor Bardero beninteso bisogna vedere che poi si mantengano queste aspettative perché è chiaro che comunicare esternamente qualche cosa poi implica un'assunzione di responsabilità bisogna dire mantenere poi le aspettative che si vanno a suscitare e quindi diverse aziende in realtà fanno quello che va sotto il nome di employer branding quindi di comunicare esternamente quali sono le caratteristiche del lavoro in quella realtà in quell'azienda e quali sono gli elementi più importanti come ci si trova all'interno perché è importante far parte di quella famiglia eccetera eccetera questo dà delle informazioni rilevanti per chi si vuole proporre perché rilevanti rilevanti perché ci consente di avere qualche dato qualche informazione su che cosa interessa all'interlocutore quali sono gli elementi che possono avere più più appeal da parte di chi riceve le candidature e quindi come ci si può presentare quindi farsi un'idea se quel mondo è un mondo che è in linea con i nostri valori è in linea con le nostre aspettative ma dall'altra parte come far sì che dall'altra parte si percepisca un interesse nei confronti del nostro profilo anche perché i numeri che di solito caratterizzano queste sezioni lavora con noi sono numeri importanti sono molte persone che fanno domande attraverso queste queste sezioni quindi diciamo risaltare emergere in numeri molto grandi è più è più difficile anche qui c'è la possibilità di candidarsi di costruire il proprio profilo e a monte diciamo dietro ci sono anche qui sistemi gestionali diciamo gestiti da forme più o meno evolute di intelligenza artificiale che facilitano il lavoro di chi deve fare il match tra la domanda e l'offerta però qui c'è una personalizzazione quello che non c'è nei portali generalisti qui c'è la possibilità di prendere meglio di una mira cioè di avere delle informazioni specifiche che si possono utilizzare per presentarci al meglio per questa per questa realtà vi faccio un altro esempio un altro esempio che si può cogliere diciamo come differente rispetto al tipo di attività Gucci è diverso da FCA come tipo di attività però anche qui c'è la possibilità di accedere alla sezione lavora con noi è un po' piccolo si vede un po' piccolo evidenziato in giallo e di presentarsi per lavorare in un settore quello della moda che ha delle caratteristiche peculiari e quindi di diciamo avere qualche cosa qualche informazione che serve per presentarci nel modo più possibile interessante per chi per chi c'è dall'altra parte allora qui abbiamo visto un po' brevemente la prima la prima parte che è quella del dove di quali sono le alcune diciamo delle possibilità raggruppate in tre grandi insiemi quello social quello dei portali generalisti e quello dei siti web aziendali l'ho fatto vedere solo un paio ma ce ne sono ce ne sono molti altri poi però la seconda parte è un po' relativa al che cosa controllare rispetto a qualche diciamo qualche suggerimento che può tornare utile rispetto alle offerte che si possono trovare un conto è il dove andiamo a cercare e un conto è il che cosa troviamo allora ecco una delle prime cose da dire è facciamo attenzione a a scegliere no diciamo che una delle prime cose da controllare è che ci si presenti no giocare ad armi pari nel senso che c'è anche un articolo di legge che risale nel 2003 che informa che in italia è l'articolo 9 del decreto legislativo 276 ecco del 2003 che rende nota che in italia è illegale pubblicare annunci di lavoro in forma anonima quindi deve essere ben chiaro chi è che offre che cosa quindi se non c'è il nome dell'azienda primaria realtà no vogliamo sapere chi è anche per farci un'idea perché oggi la rete ci mette in condizione di valutare anche i nostri interlocutori se lasciamo le tracce noi le lasciano anche gli altri e quindi è giusto che si verifichi questo non so se Elvis aveva un commento su questo sì volevo dire su questo è esplicativo anche l'esempio che è stato fatto prima che hai fatto benissimo prima Sergio di LinkedIn della persona che diceva appunto durante il Covid hai perso lavoro stai cercando lavoro eccetera eccetera tantissimi messaggi diciamo così specchietto di quel tipo in cui l'interlocutore propone tantissime cose ma di fatto non si presenta e ti dicono semplicemente che se vuoi conoscere di più allora vai al primo incontro fai il primo incontro eccetera eccetera no sbagliatissimo giustamente bisogna proporsi a darmi pari giocare alla pari io devo sapere esattamente come abbiamo visto adesso col sito Gucci col sito FCA eccetera io devo sapere con chi sto giocando devo sapere con chi sto interloquendo deve sapere qual è la realtà e che cosa quella realtà può darmi per la mia crescita professionale per la mia crescita lavorativa eccetera questo è fondamentale sì diciamo che adesso non so se posso fare una domanda scusate certo allora rispetto a questa cosa che dice di feed degli annunci che non presentano il nome dell'azienda ok due dei siti che tu hai mostrato precedentemente la Deco e la Mac Power sono agenzie per il lavoro e quindi in realtà loro possono non pubblicare il nome dell'azienda perché in realtà chi assume è l'agenzia o anche in questo caso loro sono obbligati a dire per quale azienda loro ti in quale azienda loro ti somministrano brutto da dire però così è giusta domanda giusta osservazione questo è un caso particolare le agenzie per il lavoro appunto hanno una caratteristica diversa diciamo qui ci si riferisce più che altro agli annunci che si possono trovare diciamo in forma semplice su Facebook o su altri canali che non hanno un crisma di se vogliamo di ufficialità ma soprattutto sono annunci diretti ecco nel caso dell'agenzia per il lavoro è ovvio che magari questo tipo di di informazione venga presentata successivamente diciamo quindi anche per non influenzare diciamo reciprocamente il candidato e l'azienda poi dipende anche un po' dal tipo di rapporti che ci sono ma in realtà questo tipo di osservazione cioè di fida degli annunci che non presenta l'uomo dell'azienda vale di più per gli annunci diciamo non mediati ecco dalle società di agenzie per il lavoro ecco se posso aggiungere si se posso aggiungere un aspetto importante su questo punto l'agenzia per il lavoro si presume che facciano si presume che facciano già loro una cernita una selezione di messaggi tra virgolette veritieri cioè il problema di questi messaggi è che alcuni sono messaggi come vi ho detto specchietto che come dire tendono ad inglobare varie richieste eccetera ma il cui fine non è esattamente quello si presume che l'agenzia per il lavoro faccia invece un lavoro preliminare di selezione della proposta fa un po' quello che come dire che fa il sistema di intelligenza artificiale che conseguentemente come dire mi aspetto che la proposta che mi venga fatta sia comunque una proposta credibile che ha già ricevuto una sua come dire verifica eccetera eccetera sul fatto che non mi si ponga davanti un interlocutore che fra virgolette ha altre mire rispetto a quello dell'offerta di lavoro sì diciamo che nella slide sono presentati alcuni dei suggerimenti in linea e ce ne sono tanti anche in rete si trovano anche moltissime guide su come riconoscere offerte di lavoro più o meno valide come evitare le truffe eccetera ce ne sono veramente molte quello che ci premeva magari era quello di mettere l'accento sulle informazioni che vengono che vengono riportate e soprattutto sulla trasparenza sostanzialmente no perché è chiaro che ad ecco come Randstad come altri come altre realtà sono loro che presentano l'opportunità ed in alcuni casi come diceva Novella sono loro che assumono quindi è chiaro chi è che fa l'annuncio sono loro poi per il tipo di attività sono loro che si fanno garanti delle condizioni di lavoro e quindi il rapporto è colore sono loro che si presentano diverso è il fatto di non avere ben chiaro chi sia effettivamente il datore il datore di lavoro ecco in questi messaggi in questi piccoli suggerimenti quello che dovrebbe un po' suscitare la curiosità l'attenzione di tutti è diciamo il tipo di il carattere di trasparenza che possono avere queste offerte in alcuni casi appunto noti alle cronache per esempio ci sono annunci che chiedono di partecipare a corsi di formazione pagati diciamo da parte del candidato per avere poi successivamente accesso a forme di impiego ecco anche qui valutare con molta attenzione con molta accuratezza perché lo scopo principale è quello di incassare le quote di partecipazione ai corsi di formazione poi diventa difficile sapere se effettivamente poi si traduce in una in un'opportunità di lavoro ecco in questo senso ci sono anche per dare insomma un po' più informazioni alcuni esempi che si possono fare no alcuni elementi essenziali delle offerte sono il ruolo quindi che tipo di profilo ha ricercato dove si svolge l'attività lavorativa e soprattutto i requisiti no chi stiamo cercando quali sono le caratteristiche della persona che dovrà andare ad occupare questo ruolo allora anche qui beninteso si presume che anche chi offre lavoro sappia fare il suo mestiere no perché noi diciamo guardiamo le cose dal punto di vista di chi lo sta cercando il lavoro però non è scontato che chi ha l'esigenza di ricoprire delle posizioni lavorative abbia diciamo tutti gli elementi tutte le capacità tutte le informazioni per per diciamo ricoprire la la posizione nel modo più utile presumiamo che lo sia quindi presumiamo che ci sia stata un'analisi e quindi si sia individuato un profilo di competenze di caratteristiche che siano adeguate a ricoprire la posizione e quindi si pubblicizzi questa questa opportunità che cosa non può mancare il ruolo quindi che cosa deve fare la persona dove si svolge l'attività lavorativa e anche sostanzialmente i requisiti richiesti questo per dare alla persona qui ci sono alcuni esempi se volete questo per dare alla persona anche un'idea della corrispondenza tra le proprie caratteristiche e le caratteristiche del profilo richiesto questo in una certa misura vale anche per la pubblica amministrazione che nei bandi deve pubblicare i requisiti richiesti e le caratteristiche dei profili messi a bando anche per mettere le persone in condizione di valutare se effettivamente il proprio profilo corrisponde e quanto corrisponde quindi anche per facilitare al più possibile diciamo un certo grado di trasparenza ecco come vedete qui in questi in questi esempi questo è un esempio diciamo di impiegato di impiegato amministrativo e che di fatto ha anche un dettaglio non soltanto una descrizione impiegato amministrativo impiegato impiegata ambossessi eccetera quindi anche questo è importante entra nel dettaglio nello specifico di che cose si dovrà occupare qual è diciamo l'ambito di attività che richiede che richiede la posizione quindi di conseguenza anche quali sono le competenze le competenze richieste ecco quindi gli elementi fondamentali sono il tipo di ruolo dove si svolge l'attività anche per dare un'idea alle persone del fatto che magari l'accettare l'offerta di lavoro potrà comportare una mobilità no perché ci sono aziende in realtà che hanno più sedi e che quindi possono in qualche modo offrire delle opportunità lavorative in sedi anche distanti dal punto di vista geografico ecco il fattore di base è sempre quello della trasparenza quindi mettere le posizioni le persone in grado di valutare se quel tipo di offerta di lavoro è compatibile con le proprie caratteristiche ma anche con i propri interessi con le proprie disponibilità e con le proprie esigenze ecco questo è anche perché se vogliamo maggiore trasparenza significa minore probabilità che si arrivi a un certo punto e non essersi capiti no quindi magari ti puoi trovare nella condizione in cui una persona che si candida per una posizione ha le competenze richieste però non era chiaro fin dall'inizio che questo avrebbe comportato un trasferimento una mobilità e quindi si perde tempo in due o anche più di due a seconda di quanti partecipano al processo di selezione però di fatto si arriva a un certo punto avendo individuato che la persona effettivamente potrebbe essere il candidato ideale ma non si chiude il cerchio perché alcune informazioni non erano state chiare fin dall'inizio quindi è nell'interesse di tutti a essere il più trasparenti possibili in modo da prevenire eventuali eventuali malintesi non so se su questo Elvis aveva delle considerazioni sì no no assolutamente assolutamente d'accordo su tutta la linea anche perché come dire questo è uno degli aspetti poi dopo che determina ovviamente l'abbandono di un posto di lavoro o quantomeno il fatto che un utente poi dopo manifesti poi effettivamente è una sorta di non diciamo così non soddisfazione a livello lavorativo proprio perché non era chiaro sin dall'inizio no la 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 così la la le informazioni e quello che era realmente l'offerta di quello che si chiedeva e questo è un aspetto molto molto importante che proprio per diciamo così poi dopo eventualmente il fatto che il lavoro il lavoratore divenga una forza costante e continua all'interno della della serie ma sì diciamo che il concetto della trasparenza anche della bionivocità diciamo di questo tipo di rapporto perché se vogliamo c'è sempre la parte di chi offre la parte di chi invece si propone ma in realtà ecco bisogna anche guardare le cose dal punto di vista di chi per esempio non soltanto di chi si candida e quindi magari interessa avere quante più informazioni possibili però dall'altra parte effettivamente alle aziende i processi di reclutamento e selezione costano nel senso che richiedono appunto intanto una prima riflessione interna nel capire se c'è l'esigenza uno due che tipo di esigenza tre come soddisfarla questa esigenza quindi a parte le competenze che può avere una persona ma anche il contesto nel quale va inserita con chi dovrà lavorare e soprattutto che tipo di percorsi di carriera per esempio si possono immaginare di lì a un po' ecco anche per dare alle persone una prospettiva di inserimento è un contratto di apprendistato è un contratto di altro tipo c'è una una previsione che questa esigenza sia stabile duratura nel tempo è un'esigenza che avrà una sua durata limitata un tempo determinato un contratto stagionale eccetera eccetera ecco non sono io consulente del lavoro per entrare in questi dettagli però noi abbiamo anche imparato a riconoscere il contratto psicologico quello che le persone e le aziende e le organizzazioni in qualche modo spesso implicitamente stipulano all'inizio del loro incontrarsi quanto più questo tipo di contratto quindi il patto diciamo è trasparente è esplicito quanto più probabile che diciamo l'amicizia sia lunga se vogliamo citare un vecchio un vecchio adagio ma è nell'interesse di tutti perché proporre qualche cosa che è solo in parte in linea con le aspettative le esigenze le caratteristiche di un candidato è un approccio miope perché va a finire che dopo un po' quel candidato se ne va e devi ricominciare per cui è nell'interesse di tutti cercare e alimentare la trasparenza che però e questo è un aspetto importante e lo tratteremo tra poco va cercata anche da parte dei candidati dove l'informazione non è fornita non è chiara bisogna chiedere bisogna chiedere nell'interesse di tutti perché magari non c'è malafede non c'è del dolo dietro non c'è la volontà di nascondere qualche cosa ma a volte magari l'informazione che per il candidato è interessante è importante non viene ritenuta pertinente e importante da parte di chi pubblica l'annuncio allo stesso modo magari lo spazio disponibile per l'annuncio visto che online il testo è sempre abbastanza breve magari non non dà la possibilità appunto di inserire tutte le informazioni quindi dove questa trasparenza non sia completa non sia soddisfacente il consiglio è sempre quello di fare domande di chiedere ecco diciamo che sia su LinkedIn sia sugli altri portali si possono fare delle ricerche ecco queste ricerche si possono fare filtrando le informazioni in vari in vari modi ecco noi possiamo anche immaginare adesso questo è un esercizio che non faremo qui per contenere diciamo i tempi di questo webinar nel tempo previsto però è un esercizio che si può che si può fare anche ciascuno per la propria curiosità quindi proviamo a immaginare che non si tratti di noi stessi ma si tratti di qualche di un profilo che noi un profilo immaginario noi immaginiamo che ci sia una Laura 30 anni che lavora da 10 anni in una determinata posizione vuole cambiare azienda come fa a trovare lavoro quindi qualche informazione ce l'abbiamo intanto è Laura abbiamo un'informazione di genere poi abbiamo l'età poi abbiamo l'esperienza in una determinata azienda quindi la cosa più naturale che verrebbe da dire è cerchiamo delle aziende simili e vediamo un po' diciamo che quello che questi portali consentono di fare è fare una prima passata no? questa è la prima operazione che si fa è filtrare per le informazioni che ci interessano e vedere quali tipi di annunci sono disponibili che cosa viene diciamo un po' il polso del mercato che cosa viene ricercato e questo non è banale come informazione perché in realtà anche se noi ci volessimo proporre non attraverso questi portali ma andando direttamente per esempio dall'azienda avremo avremo comunque la possibilità di raccogliere una serie di elementi a che ci servono questi elementi ci servono per comporre nella maniera più mirata possibile il nostro curriculum sia che noi si faccia domanda attraverso la sezione lavora con noi dove il form è già preimpostato e quindi noi dobbiamo soltanto inserire delle informazioni in dei campi che sono stati preimpostati dall'azienda con il grosso vantaggio di far confluire questi dati in un database e poterli trattare e gestire in una maniera più più efficiente ecco qualche anno fa prima di questi diciamo 10-15 forse anche 20 anni fa la gestione era ma in alcuni casi anche oggi nelle aziende meno strutturate è del tutto manuale no? poi ci sono dei gestionali che aiutano in questo però in realtà in questo modo ecco l'azienda ha preimpostato dei campi delle informazioni rilevanti e ci chiede di compilarle però che cosa ci mettiamo dentro dipende sempre da noi e quindi in realtà noi possiamo farci un'idea di quello che è richiesto dal mercato e di quello che è richiesto da quel tipo di aziende lì quindi possiamo usare anche questi portali come un primo approccio un'analisi di mercato se vogliamo non so se Elvis può aggiungere qualcosa su questo sì sì verissimo e sono molto importanti le informazioni che inseriamo dentro appunto questi portali perché ovviamente da un lato c'è appunto il fatto che poi dopo sulla base di quello che avremmo inserito abbiamo fatto un match con le aziende dall'altro c'è anche il fatto che questi canali permettono LinkedIn in particolare ma anche gli altri permettono di come dire automaticamente selezionare per esempio determinate tipologie di attività o di aziende di dire cercami attività o lavori che sono simili a questa proposta frequentemente nel momento in cui poi dopo ci saranno si attiveranno determinate diciamo così proposte simili a quelle che a noi piacciono simili a quelle a cui noi abbiamo messo ad esempio il cuoricino che aveva fatto vedere prima Sergio i preferiti ecco tutte le proposte simili ci verranno verranno selezionate per noi quindi tanto più noi faremo una richiesta mirata e fatta bene tanto più il sistema riuscirà meglio a soddisfare le nostre richieste le nostre esigenze sì anche in chiave proattiva cioè non è necessario che noi troviamo l'annuncio che fa per noi ma noi possiamo anche presentarsi delle aziende che magari ecco quello che noi non sappiamo quello che vediamo sono gli annunci quello che non vediamo sono le esigenze e a volte le aziende non hanno ancora esplicitato un'esigenza quindi non diamo per scontato che quello che non c'è sotto forma di annuncio non ci sia sotto forma di esigenze ci possono beh un po' su questo il mercato diciamo è esemplare i famosi bisogni latenti capita di incontrare qualcuno che diciamo ci fa venire in mente che effettivamente di qualche cosa potremmo aver bisogno oppure che quell'esigenza che noi abbiamo in qualche modo rinviato o che non abbiamo ancora esplicitato possa trovare diciamo una scintilla perché qualcuno si presenta si candida dicendo guardate io ho queste caratteristiche so fare questo mi piacerebbe lavorare con voi perché questo settore mi interessa perché ho visto il vostro sito so che cosa fate e dalle informazioni che ho a me interesserebbe lavorare con voi le famose autocandidature in realtà non parte l'input non viene da un annuncio perché magari l'azienda non l'ha ancora pubblicato però diciamo che la parte ecco il messaggio latente che volevo trasmettere è bene cercare gli annunci bene rispondere agli annunci bene costruire il curriculum ma non trascuriamo anche la parte di proattività quindi anche di autocandidatura che in alcuni casi può dare dei risultati inaspettati sì tant'è vero che ci sono tantissime aziende che normalmente fanno selezione del personale anche per lavori che al momento di quel momento non hanno necessità ma che sanno benissimo che da lì a un certo periodo di tempo ritorneranno utili quindi si premoniscono a questo facendo una sezione anticipata poi dopo magari contattando successivamente le persone per cui questo aspetto proattivo che sta dicendo Sergio è veramente molto importante ma ecco io verrei visto che gli argomenti da trattare sono molti brevemente anche alla parte del presentarsi dove non ci sia per esempio un form standardizzato ma dove siamo noi a costruire il nostro profilo o a scrivere il nostro curriculum per presentarci perché a questo serve sostanzialmente il curriculum ad offrire a qualcuno una serie di informazioni strutturate su di noi in modo da valutare se il nostro profilo corrisponda o meno a delle esigenze esplicite o implicite che la realtà può avere allora il curriculum è un modo per strutturare queste informazioni ci sono diverse scuole di pensiero ci sono format già preimpostati di curriculum se ne trovano degli originali in rete se ne trovano dei classici come il formato europeo in alcuni casi appunto ancora oggi è richiesto di presentare il curriculum in formato europeo anche lì vantaggi e svantaggi però ci sono diciamo moltissimi esempi su come strutturare le informazioni che però hanno uno scopo soltanto quello di mettere in ordine una serie di informazioni sul profilo del candidato in modo che siano facilmente confrontabili a due vie tra il profilo il candidato e il profilo ricercato e tra il profilo di un candidato e il profilo di altri candidati questo è implicito ma è così quindi in realtà si confronta uno a uno diciamo ma anche trasversalmente per cui normalmente in ambito aziendale anche a me è capitato quando ho fatto questo mestiere per conto di azienda di arrivare a un certo numero di curriculum 3, 4, 5 la famosa short list e venivano confrontati i curriculum tra di loro tutti quanti avevano i requisiti di base ovviamente altrimenti non sarebbero stati preselezionati però tra quelli che hanno i requisiti di base si vanno poi a valutare le differenze e questo se vogliamo è tipico anche un po' meno tipico delle forme di intelligenza artificiale però è tipico del comportamento umano che non procede diciamo in assoluto ma procede per valutazioni comparative e quindi si confronta un profilo con un altro profilo quanto più ciascuno di questi profili assomiglia a quello ricercato voi direte ma perché ci dici queste cose perché in realtà dall'altra parte spesso c'è una o più persone che hanno molti curriculum hanno poco tempo e quindi tendono a valutare le informazioni che hanno a disposizione con il tempo e i metodi che hanno a disposizione per cui qual è diciamo un consiglio che mi sento di dare a chi diciamo è in una fase di ricerca attiva diciamo del lavoro è quello di tenere in considerazione come si svolgono queste attività e come ci si può presentare non soltanto nei confronti diciamo in generale ma nei confronti nello specifico della posizione lavorativa ricercata quante più informazioni abbiamo sull'esigenza sull'azienda su come sta andando su qual è la tipologia di candidati ricercata eccetera quanto più possiamo noi mettere in evidenza delle nostre caratteristiche adesso non dico dichiarare il falso perché questo non è ma mettere in evidenza prima qualcosa e poi qualcos'altro per esempio anche perché il tempo a disposizione è poco e le valutazioni comparative sono anche in termini di leggibilità del curriculum quanto più è semplice quanto più è immediato quanto più è facile trovare l'informazione che cerco tanto più quel curriculum mi piacerà perché mi chiede meno fatica questo lo sanno bene anche i docenti che valutano diciamo gli elaborati degli studenti se devo fare tanta fatica per capire che cosa mi vuol dire va a finire che ne risente anche la qualità dell'elaborata lo stesso modo vale per il curriculum nel senso che questo strumento è uno strumento di fatto che si deve presentarsi per presentare delle informazioni che possono essere più o meno salienti agli occhi di chi di chi le osserva di chi le legge e quindi diciamo a parità di caratteristiche anche questa abilità di mettere in fila gli elementi più salienti per quell'occasione può essere può essere determinante adesso io vi faccio vedere brevemente alcuni consigli qui c'è un curriculum abbastanza sospetto ho messo il mio per non far torta a nessuno ma ne ho messo un esempio è in inglese ovviamente però ecco alcuni consigli possono essere possono essere utili se vogliamo quindi certamente il concetto della trasparenza certamente la parte grafica però attenzione ecco a non fare un esercizio di stile a non abusare nei colori a non diciamo fare a rendere complicata la lettura quindi lo scopo è quello di presentare le informazioni essenziali nell'ordine che noi presumiamo possa essere il più interessante possibile poi ci sono alcuni consigli che sono un classico quello della sintesi eccetera però ecco l'importante nella scrittura del curriculum nella preparazione per esempio del curriculum nel candidarsi per degli annunci che non abbiano un format preimpostato è un esercizio di scelta quali informazioni presentare senza inventarle ma presentarle nella maniera più diciamo diretta facile da capire interessante soprattutto rapportata alle ipotesi che noi abbiamo rispetto all'esigenza che viene manifestata nell'annuncio chiaro che qui ecco per esempio abbiamo un esempio diciamo di curriculum un formato europeo che contiene tutta una serie di campi di preimpostazioni eccetera ecco quello che non c'è non si rompe diceva Henry Ford all'inizio del secolo scorso per cui uno dei primi consigli è attenzione a inserire solo le informazioni che abbiamo l'esempio più banale c'è un campo per il fax ce l'abbiamo no togliere il campo la sintesi è importante ed anche dal punto di vista adesso non tutti se ne accorgono però dal punto di vista di chi legge trasmette la sensibilità di chi si candida a non farti perdere tempo a vedere qualche cosa che non serve a niente no è un po un tenere fede al patto guarda io ti do l'informazione che ti interessa tu valutala diciamo per come la potrai la potrai valutare allo stesso modo evitare per esempio le ridondanze adesso non so se il vi aveva qualcosa da aggiungere su questo però la sintesi è fatta anche di togliere il superfluo ecco assolutamente togliere il superfluo perché se io lascio il superfluo e non lo inserisco cioè lascio un'informazione che poi dopo non inserisco agli occhi dell'interlocutore cosa che è fondamentale appunto anche per la digital reputation è viene fuori l'idea del chissà perché non mi ha messo questa informazione e comunque resta un dubbio resta un dubbio e sapete qualsiasi dubbio che venga posto sulla nostra persona comunque come dire fa scendere fa calare il nostro appire sì qui vedete diciamo un parallelo come lo slalom in parallelo vedete sulla sinistra le correzioni in rosso e sulla destra diciamo le evidenziazioni in verde che fanno un po' anche il parallelo per esempio con quello che diceva Elvis cioè anche della parte reputazionale uno dei consigli è quello di utilizzare il più possibile un email professionale quindi il cucciolino eccetera 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 se ci si presenta per un lavoro magari si può visto che comunque l'attivazione ormai ai nostri giorni dell'email è gratuita e quindi diciamo una piccola accortezza non guasta anzi viene apprezzata anche come indice di professionalità allo stesso modo la presentazione in ordine cronologico in modo che non ci sia da saltare avanti indietro per un curriculum per capire che cosa ha fatto e quando diciamo in terzo luogo un lavoro di sintesi ecco perché di fatto il curriculum serve per arrivare eventualmente a quello che vedremo dopo a un appuntamento difficilmente si viene assunti solo attraverso un curriculum c'è di solito una fase successiva di incontro di valutazione di approfondimento allora è quella la fase in cui poi si va nel dettaglio quello che importa nel curriculum è dare evidenza dell'esperienza delle realtà nelle quali si è lavorato o che si sono incontrate perché magari non si ha molta esperienza quindi non è detto che uno debba mettere in fila N esperienze lavorative anche perché questo è uno dei punti deboli di solito di chi si affaccia al mercato del lavoro è richiesta esperienza e come faccio se non comincio mai da nessuna parte allora quello che può fare la differenza diciamo per chi si affaccia per le prime volte al mondo al mondo del lavoro dove non si può vantare un'esperienza pregressa che cosa si può vantare oltre all'aver studiato magari aver fatto diciamo proattivamente delle attività dell'iniziativa aver dimostrato la diciamo l'interesse la curiosità e l'impegno nell'acquisire competenze che non necessariamente sono da svilupparsi in un contesto lavorativo to cure ma possono essere nate e sviluppate anche in contesti associativi volontaristici sportivi musicali formativi e paraformativi quindi che cosa ho fatto dove mi sono messo o messa in gioco che cosa ho imparato che cosa mi interessa imparare soprattutto perché per i profili più junior quello che può interessare non è detto che lo faccia però che può interessare non è il tanto che cosa si sa già fare ma che cosa si può imparare e quanto la persona può essere in qualche modo adattabile a un contesto che ha delle sue caratteristiche delle sue specificità il famoso imparare ad imparare ci sono tutte queste caratteristiche che per i profili un po' junior hanno possono avere diciamo un carattere di interesse da parte di chi offre opportunità lavorative allo stesso modo ecco poi molto velocemente vediamo alcuni alcuni suggerimenti questo sono suggerimenti che vanno sempre nell'ambito se vogliamo della formale no in che ordine presentare le informazioni ecco generalmente quello che il lettore medio del curriculum si aspetta quindi non stiamo trattando di un form pre compilato ma di un formato libero più o meno libero come il formato europeo ci si aspetta che le informazioni vengano presentate in senso cronologico dalla più recente alla meno recente generalmente ma non è scontato che questo avvenga allo stesso modo va bene il format europeo però se non abbiamo le informazioni da inserire togliamo la sezione per esempio allo stesso modo ecco in linea generale quello che può essere utile come indicazione è teniamo in mente mettiamoci nei panni di chi poi lo leggerà e qui diventa fondamentale il ragionamento che abbiamo fatto prima quante più informazioni abbiamo su chi lo leggerà quindi su che cosa può essere interessante per chi lo leggerà quanto più saremo facilitati nel mettere in ordine nelle informazioni e nel selezionarle ecco non so se diciamo questo tipo di messaggio può essere può essere funzionale ecco quindi il consiglio principale quello diciamo il fattore principale è mettiamoci nei panni di chi lo riceve che cosa deve saltare subito all'occhio per esempio cos'è che non può mancare cos'è che può fare può suscitare curiosità e tradursi nel risultato più atteso di solito l'essere chiamati l'essere convocati per un approfondimento quindi nel curriculum non è necessario dire tutto è necessario far trasparire quegli elementi che più probabilmente secondo l'idea che ci siamo fatti anche del tipo di realtà del tipo di esigenza del tipo di offerta più probabilmente porteranno a volerne sapere di più ecco da parte di chi di chi lo legge non trascuriamo la parte ulteriori informazioni anche perché soprattutto per i profili un po' più junior la parte di esperienze necessariamente non sarà molto estesa la parte formativa sarà sostanzialmente comune per molti quello che può fare la differenza è la parte ulteriori informazioni interessi cosa ci piace fare perché perché anche lì i selezionatori più attenti al di là delle formule classiche no adoro lavorare in team eccetera insomma ci sono delle formule che vengono usate da quasi tutti però l'originalità ecco quello che può in qualche modo sorprendere in questa sezione è che può trasmettere magari un'idea anche di spontaneità quindi di non diciamo documento precostituito e standardizzato che noi mandiamo uguale a tutti ma di spontaneità ecco questo può avere un valore agli occhi di chi di chi si trova a valutare curriculum che riceve da parte di diversi diverse anche centinaia di candidati quindi questo va tenuto va tenuto presente quindi il tempo medio di lettura del singolo curriculum è anche abbastanza ridotto ecco quindi meno cose ci sono è più probabile che qualche cosa resti non so se Elvis vuole aggiungere qualcosa su questo visto che aveva no 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 si è verissimo perché spesso vediamo dei curriculum che sono veramente come dire la voglia di dire qualsiasi cosa qui risulta però veramente fondamentale quello che diceva prima Sergio io sono portato ovviamente a scrivere un curriculum con tante cose quando non so bene che qual è la richiesta dall'altra parte e a chi devo rivolgermi ovviamente se invece dall'altra parte è stato chiaro ed è chiaro il messaggio di quello che si vuole sapere e di quali sia la richiesta è ovvio che se io non so come dire costruire un curriculum tale per cui dia le informazioni rilevanti e non e non diciamo così superflue ecco questo dopo è una mia cadenza una mia mancanza che ovviamente verrà adeguatamente valutato altro aspetto importante una cosa importante che prima era stata scritta che magari diciamo così abbiamo guardato aspetti più importanti ma anche questa ha il suo perché veramente è non essere banali nel senso che quello che diceva prima delle volte non deve essere un esercizio di forma essere troppo schematici statici eccetera eccetera a volte occorre anche un attimo di saper variare le formule saper variare gli aspetti eccetera perché altrimenti chi legge il nostro curriculum si fa una sorta di idea di una monotonia madornale e sembra banalità però effettivamente poi dopo ha il suo peso nella valutazione che vengono date appunto delle persone e delle modalità che hanno le persone che di presentare se stessi perché ricordate ricordiamoci una cosa fondamentale è un curriculum ed è online ma siamo noi cioè quella è l'idea che chi legge si fa di noi punto sì diciamo che oggi a parte diciamo che il titolo di questo di questo webinar era cercare lavoro su web e quindi oggi non c'è solo il curriculum come modalità di presentazione come un po' abbiamo detto all'inizio in alcuni casi la nostra reputazione ci precede però normalmente i processi di selezione quelli un po' più strutturati iniziano da lì iniziano dalla compilazione di un form online che sia su un portale che sia nella sezione lavora con noi oppure con una forma un po' più libera di strutturare le informazioni che ci riguardano ma non che ci riguardano in generale che ci riguardano in rapporto ad un'esigenza esplicita o implicita per tornare al tema della ricerca attiva e della proattività allora questo ovviamente è una parte che ci rappresenta il resto sono le informazioni che su di noi si possono ricavare dal web dai social e dai contatti con i quali siamo in relazione perché dico questo perché nei casi in cui il nostro esercizio quindi quello di preparare il curriculum mirato per quell'offerta di lavoro nel caso in cui questo esercizio sia andato a buon fine la cosa che insomma più frequentemente può succedere è quella di trovarsi ad approfondire queste informazioni a gruppo ristretto diciamo con per esempio un colloquio per esempio no? poi ci sono anche selezioni di altro tipo strutturate in gruppi assessment lasciamo diciamo un attimo da parte questi questi esempi ma ecco quello che si può più spesso verificare è che ci sia un primo incontro che magari può essere seguito da successivi incontri no? tant'è che appunto negli ultimi anni anche anche nostri studenti diciamo hanno spesso raccontato di quattro o cinque colloqui per accedere a uno stagio e qui possono nascere delle riflessioni no? sul anche banalmente quanto tempo impieghi una realtà per diciamo stabilire se una persona ha le caratteristiche per svolgere uno stagio che è un'esperienza di fatto più spesso formativa no? ha un carattere formativo prima che diciamo di rapporto di lavoro però diciamo al di là di queste considerazioni quello che è di solito l'esito più desiderato da parte dei candidati per successivo alla presentazione di un curriculum è l'ottenere un colloquio quindi l'essere convocati per un appuntamento che può essere più o meno formale che può essere oggi oggi molto spesso a distanza anche prima della fase pandemica no? perché? perché costa meno perché è più semplice perché non richiede spostamenti perché consente appunto di essere di essere in qualche modo più efficienti questa questa componente fino a qualche anno fa c'era c'era molto meno no? quindi il vantaggio di una maggiore efficienza lo svantaggio è che si perde anche lì qualche informazione no? l'entrare in un'organizzazione osservarne le caratteristiche respirarne l'atmosfera l'incontrare le persone e anche adesso faccio un po' il lato poetico l'incrociare gli sguardi di chi attraversa i corridoi di quelle organizzazioni dà delle informazioni rispetto all'organizzazione nella quale ci si propone di entrare e quindi questo però risponde sostanzialmente a qualche cosa che inizia ancora prima del colloquio che è la necessità di conoscere il più possibile non dico il nostro avversario perché avversario non è ma diciamo la realtà con la quale noi andiamo a confrontarci vedo Elvis pronto per un commento sì volevo dire a tal proposito che purtroppo questo implica anche aspetti che abbiamo trattato parlando di digital reputation ovvero che tutto quello che viene a mancare ovviamente dalla relazione fisica in presenza che spesso si costruisce ascoltando la persona vedendola percependo un po' quello che è sentendola parlare eccetera lo si ricerca poi negli ambienti virtuali dove come ha detto e anticipato Sergio subito all'inizio noi non siamo solamente il nostro curriculum siamo il nostro curriculum siamo le nostre foto siamo i nostri profili siamo i nostri commenti siamo i commenti degli altri dei nostri confronti siamo le foto degli altri che riportano i nostri momenti di vita e che vengono adeguatamente valiate e valutate da tutti coloro che cercano informazioni su di noi e che in quel momento a causa e in questo momento a causa della crisi pandemica non possono avere di più sì ecco quindi diciamo che prima come ci si prepara l'evento più desiderato è quello di arrivare ad un appuntamento e quando si arriva ad un appuntamento se la motivazione è come ci si aspetta che sia alta è meglio arrivare preparati e come ci si prepara ovviamente acquisendo quante più informazioni possibili sull'organizzazione sull'azienda sulla realtà ma anche sul ruolo perché un conto è l'annuncio è un conto magari sono le ricerche per lo stesso ruolo che noi possiamo aver fatto attenzione questo non è banale possiamo aver fatto sui portali perché lo stesso tipo di ruolo può essere richiesto in aziende diverse che cosa c'è in comune cosa c'è di diverso in quell'azienda cosa chiede di diverso quell'azienda lì ci sono alcune cose che sono richieste da tutti e alcune cose che invece sono peculiari ecco quello salta all'occhio o può saltare all'occhio quindi se vogliamo ecco senza esagerare potremmo costruirci il nostro dossier il nostro set di informazioni che dice ma che tipo di azienda è che caratteristiche ha che cosa cerca e soprattutto quali sono le differenze tra quello che cerca questa azienda per che ruolo e quello che cerca non è altro infine la parte diciamo di mettere in ordine la nostra presentazione no quindi presentare in maniera un po' più articolata un po' più sviluppata le informazioni che abbiamo anticipato attraverso il curriculum e anche prepararci al fatto che prima o poi ci verranno fatte delle domande e quindi alcune di queste domande noi le possiamo anticipare possiamo prepararci no in modo ovviamente non analitico e puntualissimo perché è difficile prevedere totalmente le domande che ci potranno fare ma alcuni suggerimenti sono abbastanza comuni no quindi senza rivelare chissà quale segreto adesso detta così queste sono alcuni spot che sono lanciati su questa su questa slide però quello che ci si può chiedere scusi ma perché dovremmo assumere lei ci di un buon motivo no queste domande che vengono fatte a volte anche un po' così a bruciapelo a volte mettono anche a disagio no alcune volte questo disagio è voluto alcune volte no ecco gli psicologi dicono che mettere a disagio le persone di solito non è la strategia migliore perché di fatto fanno più fatica diciamo a a condividere le informazioni su di sé se le mette a disagio giocano un po' in difesa per cui ecco normalmente tra le varie domande qui ce n'è una una piccola selezione che possono essere presentate c'è perché dovremmo assumere lei quindi uno stimolo che cosa cela questa domanda cela il uno stimolo all'autopresentazione al mettere in evidenza i propri punti di forza tra virgolette tant'è che appunto la domanda successiva in senso orario chiede appunto di enunciare diciamo di esplicitare un'autovalutazione queste sono domande un po' ambigue se vogliamo tre pregi tre difetti sono quelle preconfezionate ecco dico subito che io non credo a queste domande sono però esempi che ci si può trovare ad affrontare in colloqui lavorativi e danno ovviamente sotteso c'è un motivo quindi tre pregi tre difetti è stimolare un'autovalutazione quali sono diciamo degli elementi che la persona ritiene come proprio punti di forza difetti a me non piace in realtà perché tutto va rapportato al tipo di profilo richiesto quindi se proprio vogliamo dare una valutazione un po' più equilibrata però ecco un'altra domanda che spesso viene posta è perché perché vuole venire a lavorare qui perché ha fatto domanda per questo che cosa gli interessa quali sono gli aspetti che la interessano di questo di questo lavoro e di fatto sotto c'è l'intenzione di valutare la motivazione no quali sono gli interessi e perché la persona può essere interessata ad impegnarsi in un rapporto di lavoro di questo tipo poi ce ne sono altre più o meno vaghe come si comporta davanti a un problema la famosa intervista situazionale quella che pone le persone nei confronti di situazioni ipotetiche oppure che chiedono le persone di riflettere su esperienze precedenti che li hanno portati a anche queste domande fatte per farle hanno una rilevanza limitata possono avere però diverse forme e lo scopo sotteso a queste domande è sempre cercare di farsi un'idea di come la persona può essere mossa da interessi o quali sono le caratteristiche che li portano a scegliere di comportarsi in un modo piuttosto che in un altro quindi in qualche modo di fare delle previsioni sul comportamento delle persone quella un po' più vaga di tutte è mi parli di lei cosa che insomma io sconsiglierei però in realtà può capitare di trovarsi di fronte anche a questo tipo di domande ecco so se ilvis voleva aggiungere qualcosa rispetto alle domande visto che aveva aperto il microfono no sì sì no giustamente sono varie le tipologie di domande cui ci possiamo trovare dinanzi eccetera queste alcune sono più o meno mirate solletticano un po' l'autovalutazione eccetera ecco una cosa da considerare ovviamente anche diciamo così nel momento in cui ci si presenta o si tenta di rispondere a queste domande il fatto di mostrare per esempio di essere capaci di come posso dire una valutazione piuttosto oggettiva delle proprie capacità soprattutto di fronte agli avvenimenti agli eventi soprattutto con la domanda del problema ma anche il fatto per esempio di dare una causalità interna molte cose che accadono ecco questo è un aspetto molto importante che viene risolto valutato in maniera piuttosto piuttosto rilevante lo dico anche soprattutto nelle descrizioni che si mettono online cioè il valutare gli eventi in maniera oggettiva e proporzionatamente dare e assumersi le responsabilità di ciò che accade in positivo e negativo questo comunque mette in una luce positiva la persona e questo in ambienti soprattutto anche virtuali diventa particolarmente importante rilevante sì diciamo che ecco nell'ultimo periodo ecco la differenza che si può evidenziare nelle candidature online nei colloqui a distanza nelle varie modalità che ci possono essere di presentarsi mediati dal digitale quindi vuoi perché rendiamo disponibili le informazioni su di noi prima ancora di arrivare all'appuntamento vuoi perché questo appuntamento si svolga in spazi virtuali si guadagna in efficienza si perde in profondità di campo se vogliamo metterla in ambito fotografico quindi si perde una parte di informazioni che noi abitualmente raccogliamo nelle interazioni faccia a faccia dal comportamento comunicativo alla postura a tutta una serie di elementi che attraverso il digitale vengono un po' filtrati o non sono così efficaci anche questo lo dico perché al di là delle possibili domande c'è ovviamente una componente emotiva che caratterizza la relazione che è notoriamente una relazione asimmetrica perché da una parte c'è chi offre a possibili candidati quindi non una persona in particolare un'opportunità di lavoro dall'altra parte c'è il candidato che invece ragiona su di sé quell'opportunità è per me quindi la motivazione è un po' diversa è un po' sbilanciata dall'altra parte però non diamo per scontato che chi veste i panni del selezionatore ne abbia l'esperienza ne abbia le competenze ne abbia le capacità quindi questa componente emotiva vale per il candidato ma in parte può valere anche per il selezionatore che magari può avere diciamo più o meno coinvolgimento nell'attività che svolge e può essere più o meno a suo agio nel cercare di gestire questo tipo di questo tipo di relazione quindi questo vale anche per completare un po' il quadro del colloquio perché lo dico lo dico perché in realtà ci possono essere alcuni suggerimenti che diciamo possono essere possono essere utili primo tra questi preparare il colloquio perché magari ci si può fare un'idea non troppo nel dettaglio però alcuni elementi punti aggrappi diciamo punti di riferimento ci possono ci possono essere e quindi queste sono diciamo valutazioni che si possono fare anche nella misura in cui noi stessi ci conosciamo ci sono persone che più facilmente sono estroverse non hanno problemi a presentarsi ad improvvisare eccetera ci sono persone che invece hanno bisogno di essere di seguire diciamo una traccia allora più ci conosciamo e più siamo in grado di restituire diciamo una una versione di noi che sia in qualche modo funzionale a presentarci al meglio dall'altra parte sì qui ci sono elencati una serie di suggerimenti che sono un po' indicativi ma non sono esaustivi lo scopo è quello di trasferire nella relazione del colloquio di lavoro il più possibile le informazioni che sono che sono rilevanti e quindi in realtà trasferire il come siamo noi come siamo noi in rapporto a quella realtà lavorativa e soprattutto all'interesse che possiamo avere nei confronti di questa di questa realtà anche perché di solito nel colloquio si presenta la struttura tipica del colloquio è che l'azienda normalmente attraverso l'intervistatore offre una serie di informazioni sull'azienda sulla posizione quindi noi siamo facciamo siamo organizzati in questo modo stiamo ricercando un po' un gancio con l'annuncio stiamo ricercando un profilo di questo tipo veniamo a quello che abbiamo desuto dal colloquio adesso sto recitando sembra che l'abbia già fatto diciamo questo sto interpretando un ruolo già fatto adesso veniamo un po' alle informazioni che abbiamo desuto dal curriculum e quindi si parte anche per mettere le persone un po' più a loro agio da delle informazioni che la persona ha già fornito e che magari vogliamo approfondire dopodiché un po' più avanti nel colloquio si va un po' più nel dettaglio e magari si chiede alla persona di aggiungere delle informazioni un po' più personali che magari nel curriculum non hanno trovato spazio o che servono diciamo a intavolare un po' un dialogo e per capire questa è la parte diciamo di solito rilevante per farsi un'idea e per valutare la compatibilità di quel profilo con l'offerta di lavoro chiaro che ci possono essere n consigli anche qui presentati nella maniera più standard possibile però ecco sicuramente la parte di ascolto è una parte rilevante cioè nella fase di colloquio sia che questo avvenga in presenza sia che questo avvenga e a maggior ragione se questo avviene a distanza non trascurare la componente di ascolto quindi non farsi prendere dalla frenesia di raccontare il più possibile su di sé ma cercare anche in quell'occasione di capire che cosa interessa all'interlocutore perché le persone tendenzialmente forniscono questo tipo di indicazione nella fase di apertura del colloquio nelle parole che scelgono di utilizzare per descrivere l'organizzazione per descrivere la posizione ma anche per descrivere in maniera più o meno esplicita che cosa ha suscitato interesse nella lettura del curriculum perché se siamo arrivati al punto del colloquio vuol dire che qualcosa ha suscitato interesse nella lettura del curriculum e a volte l'intervistatore lo dice o lo fa capire questo ci ha interessato però non è interessante questo aspetto ce ne può parlare un po' di più allora se siamo stati bravi mettiamo in fila una serie di informazioni che non servono a costruire un profilo finto ma mettere in evidenza gli aspetti più salienti di noi e quindi anche nel suscitare qualche tipo di curiosità nell'interlocutore non so se Elvis vuole aggiungere qualcosa rispetto a questo visto che aveva attivato il microfono ascolto con attenzione è molto importante perché ovviamente ci si aspetta che si risponda a tono rispetto alla pertinenza della domanda che è stata effettuata spesso l'errore che fanno in tanti è quello di essere piuttosto generalisti nelle risposte e con rischio di non rispondere a tono non rispondere con precisione alle domande che vengono poste o alle curiosità che vengono poste questo denota molto spesso appunto la mancanza di attenzione o di essere attenti diciamo usare il messaggio che viene vicola sì in effetti questo elemento è quello che ci porta un po' a chiudere un po' il cerchio perché in realtà la fase di colloquio la fase di dialogo di confronto è appunto una fase bidirezionale non ci si presenta il colloquio solo per rispondere a delle domande ma anche per farle e fare delle domande serve in realtà ad acquisire altre informazioni ma anche a far capire all'interlocutore che cosa ci interessa che cosa per noi è importante fare domande azzeccate per esempio è sempre vero è sempre diciamo generalmente viene letto positivamente il fatto che un candidato abbia delle domande che magari non c'è stato modo di fare prima ma che nella fase di colloquio possono servire a capire meglio se quel tipo di profilo quel tipo di opportunità fa per me oppure no e se ci sono delle curiosità che magari possono essere valutate positivamente da parte dell'intervistatore ecco un aspetto importante è questo di solito qui parliamo del colloquio il primo colloquio ecco la parte di aspetti amministrativi di aspetti retributivi è qualcosa che di solito si tratta in un secondo momento perché non si è ancora stabilito che il candidato è quello che alla fine verrà prescindato quindi questa parte diciamo di se vogliamo di prima impostazione diciamo del rapporto anche economico di solito non viene ben vista quindi prima stabiliamo se c'è una reciprocità dal punto di vista della domanda dell'offerta dopodichè vediamo la parte la parte economica ecco posto che comunque è un aspetto legittimo però è una questione di tempistica nel quando attivare questo tipo di argomento ecco il fatto ovviamente di facilitare la relazione è abbastanza intuitivo ma in sostanza ecco se vogliamo riassumere alcuni punti di interesse possiamo riassumerli in questo modo diciamo la motivazione l'impegno che la persona ci può mettere nell'accettare diciamo un'opportunità lavorativa l'eventuale adattabilità questo è appunto un punto interessante soprattutto negli ultimi negli ultimi tempi ecco consideriamo anche questo al di là dei cambiamenti tecnologici anche il mercato del lavoro ha vissuto diciamo dei cambiamenti abbastanza importanti ecco nel corso negli ultimi anni e una delle caratteristiche che spesso lo so perché abbiamo fatto delle ricerche diciamo in questo ambito una delle caratteristiche che più spesso viene richiesta dall'azienda è quella che va sotto il nome di adattabilità quindi la capacità diciamo di adattare il proprio comportamento il proprio impegno la propria attività alle mutate esigenze che non significa essere sostanzialmente in balia degli eventi ma diciamo di trovare un equilibrio tra quello che sappiamo fare quello che ci piace fare e quello che è necessario fare e anche la capacità di leggere le situazioni la capacità di adattarsi a lavorare con persone che hanno profili differenti che hanno esperienze differenti la capacità di imparare ad utilizzare le risorse a disposizione per svolgere le attività che dobbiamo garantire allora ecco questo concetto di adattabilità è un concetto che negli ultimi anni ha ricevuto molta attenzione sia dal punto di vista della ricerca scientifica ma anche e soprattutto da parte delle aziende che hanno spesso l'esigenza di modificare rapidamente le attività svolte gli strumenti di lavoro e anche il proprio posizionamento sul mercato e quindi la possibilità di contare su persone che abbiano la capacità di modificare anche anche loro il proprio modo di lavorare con le risorse che sono a disposizione quindi chiuderei con questo concetto di adattabilità che non vuol dire essere disposti a fare qualsiasi cosa no vuol dire trovare un equilibrio tra le proprie capacità quello che si può imparare gli strumenti messi a disposizione e le condizioni quindi anche le caratteristiche dei processi lavorativi nelle aziende in cui ci si candida diciamo per occupare delle posizioni ecco se Elvis vuole aggiungere qualcosa su questo però ecco chiuderei appunto con visto che sono anche ormai le sette chiuderei con il concetto di adattabilità quindi la capacità di trasmettere con il curriculum con le richieste che facciamo via mail con il primo colloquio anche l'idea che non abbiamo di fronte diciamo un blocco monolitico ma una persona che evolve che cambia che sviluppa delle competenze che prima non aveva che è curiosa che ha degli interessi e che può essere una risorsa con la quale costruire un pezzo di strada che può essere un rapporto di lavoro ma anche soltanto un processo di apprendimento che può iniziare con uno stage può interrompersi può iniziare sotto altra forma in un periodo successivo perché questa è un'informazione molto importante la reputazione si costruisce anche con questi elementi non soltanto con i post che noi facciamo sui social ma anche facendosi conoscere e con le referenze che si possono in qualche modo raccogliere nel corso anche di uno stage che può anche non sfociare in un rapporto di lavoro ma può rappresentare un bagaglio diciamo di referenze di contatti che possiamo in qualche modo spendere nella nostra ricerca di lavoro in tempi successivi mi fermerai qua penso di avere diciamo dato tutta una serie di informazioni anche forse veloci ecco però mi sembra di potermi fermare qua da questo punto di vista ecco 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 ecco